Ambiente, sviluppo e innovazione in quel comparto produttivo che è l'economia blu, meglio conosciuta come Blue Economy. È ovviamente il mare il protagonista di Blue Planet Economy Expo Forum 2024, la manifestazione che Fiera di Roma ospiterà dal 16 al 18 ottobre, tra aree espositive e aree di discussione e approfondimento delle questioni più attuali. La quarta edizione è stata presentata in conferenza stampa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In un paese come il nostro ci sono migliaia di imprese che lavorano o direttamente grazie al mare o grazie all'apporto costiero. Appartengono alla Blue Economy solo quelle realtà che fanno realmente innovazione. Blue Planet Economy si interessa, è un forum che coinvolge tutte queste realtà, in primis quindi le realtà innovative, quindi le aziende innovative, le start-up, le università, tutto il mondo della ricerca chiaramente, ma anche magari tutti gli enti locali, tutti coloro che vogliono fare innovazione all'interno del grandissimo comparto dell'economia del mare. Per una crescita economica che tenga conto dell'impatto ambientale delle attività produttive e economiche di un paese, bisogna considerare progetti sì ambiziosi ma non impossibili. Ed è proprio questo che si cerca di fare quando si parla di economia Blue, di includere cioè tutti quei settori in realtà che si occupano di un bene prezioso come il mare e che ruotano attorno ad esso. Il mare è una, oltre a raccogliere nei nostri migliaia di chilometri di costa, ci sono tante popolazioni, tante comunità locali, tanti porti, tanti interessi, tanti attori, quindi c'è un universo estremamente variegato dal punto di vista delle amministrazioni centrali dello Stato, quindi delle competenze governative, ci sono una pluralità di enti e di ministeri che si occupano di mare, alcuni se ne occupano quasi su base giornaliera, il ministro delle imprese e del Made in Italy occupandosi della competitività del sistema paese si occupa ovviamente anche insieme ai ministeri chiave, ma si occupa dei trasporti, si occupa della politica logistica, per come queste influiscono la competitività delle imprese. E a rivestire un ruolo strategico in questa economia Blue ci sono le piccole e medie imprese e le comunità locali che in occasione della fiera si troveranno a discutere e a confrontarsi con aziende, professionisti ed esperti, rappresentanti di enti di ricerca, istituzioni e associazioni di settore, ognuno nel proprio piccolo. Per gli imprenditori laziali questa fiera cosa significa? Ma io penso che la fiera di Roma, la Blue Planet, sia proprio un'occasione per le imprese, per poter dialogare tra loro e per poter comprendere meglio il proprio territorio, per comprendere meglio il proprio mare e per comprendere meglio le azioni, le direzioni da intraprendere per le proprie attività.